Da Sintra arrivano nuove conferme e da Wall Street arrivano nuovi record. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici e se non l'avete ancora fatto vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, sarete tempestivamente avvisati di ogni nuovo video che andremo a caricare e vi ringraziamo sin d'ora per il like che vorrete lasciarci a questa nostra analisi. Come se non fosse stato abbastanza chiaro quello che le banche centrali stanno deliberando e ripetendo da alcune settimane, al simposio di Sintra, cittadina alle porte di Lisbona, si è tenuto un simposio con tutti i banchieri centrali mondiali e ciascuno di essi ha ripetuto il mantra che oramai è diventato una noia, ossia il rialzo dei tassi proseguirà fino a quando l'inflazione non sarà stabilizzata e tornata al 2%. Powell peraltro ha detto testualmente che l'inflazione si è rivelata più persistente di quello che prevedevamo e lo resterà per un po', ovviamente se dovesse cambiare rotta tanto meglio, ma per ora non ce lo attendiamo. Questo discorso lascia intendere che se anche i dati dovessero permettere alla Fed e a Powell di potersi prendere una nuova pausa nel cammino del rialzo dei tassi, certamente i mercati non si devono attendere a breve, perlomeno, un inizio di una fase di riduzione degli stessi. A far eco a Powell le parole della Lagarde che ha detto non stiamo considerando una pausa nei rialzi dei tassi, non vediamo evidenze tangibili che l'inflazione sottostante stia scendendo e in particolare che i prezzi si stiano stabilizzando. Vogliamo rimanere in territorio restrittivo. Questo chiaramente non dà spazio a nessuna immaginazione, è ovvio che le banche centrali, la BCE soprattutto, manterrà una fase di rialzo dei tassi e non pensa neanche a prendersi una pausa. Di conseguenza a questo punto i mercati si mettono l'anima in pace, hanno capito che da quel punto di vista c'è ben poco da aspettarsi e quindi a questo punto si girano e vanno a festeggiare i nuovi dati che arrivano da Wall Street. Apple, nuovo massimo storico e arriva a capitalizzare sopra i 3 mila miliardi di dollari e il Nasdaq, il Nasdaq 100, che non aveva mai avuto una performance del primo semestre come quella appena registrata di oltre il 38% e che gli ha permesso di recuperare completamente l'intera perdita del 2022. Andiamo dunque a vedere queste performance settimanali, eccoci qui, andiamo dal più 3,75 di piazza affari che è stato il miglior listino di settimana, al più 1,93 del Nasdaq che fa notizia, è stato il peggior listino della settimana, poi però se andiamo a vedere le performance da inizio anno, guida nettamente il Nasdaq con più 38,75%, arriviamo con il nostro Fuzzimib a più 19, a più 15% DAX e SP500, fanalino di coda il Dow Jones a più 3,80, arranca fatica, in questo momento rimane indietro. Andiamo pertanto ad analizzare quanto è accaduto sui grafici, partiamo dal grafico di casa nostra, eccoci qua, apertura di settimana sostanzialmente in linea con la chiusura della scorsa ottava, dopodiché ulteriore debolezza, ci siamo avvicinati al supporto dei 26,680, poi a questo punto dopo Sintra abbiamo capito che da quel punto di vista non c'è più nulla da fare e allora i mercati hanno detto ok, basta, non ci occupiamo più delle banche centrali, occupiamoci di altro e hanno guardato appunto gli altri valori e Piazza Affari è tornata sopra i 28,000 ma soprattutto è tornata a superare il massimo precedente della prima settimana di gennaio del 2022, si è affacciata a 28,230 punti e a questo punto graficamente Piazza Affari ha spazio per puntare prima ai 29,3 e poi ad area 30,000 punti. Chiaramente non dobbiamo lasciarci cullare dai sogni, sarà importante prima verificare che questo livello venga effettivamente passato e passato per bene, che il livello venga testato come supporto e soprattutto con volumi, volumi che vedete questa settimana non ci sono stati, sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli della scorsa ottava e sotto la media, pertanto è un rialzo da prendere con le molle, è vero siamo ormai in estate, siamo in un periodo in cui i mercati tendono ad essere abbastanza volatili, vedremo quello che succederà, prendiamo intanto con piacere il superamento dei 28,000 punti, prendiamo con piacere il superamento del massimo relativo precedente, vediamo se a questo ci sarà un seguito. Andiamo a vedere quello che è accaduto sul listino tedesco che a differenza di Piazza Affari registra sì una buona candela, anch'essa è andata a testare il supporto dei 15,700 ma che non va a recuperare i massimi di due settimane fa, cosa che invece abbiamo veduto sull'indice di casa nostra, ma è anche vero che il massimo di due settimane fa è stato massimo storico per il DAX, pertanto sono due situazioni completamente diverse, noi siamo tornati su livelli che non vedevamo da 15 anni, mentre il DAX sta sui massimi storici, comunque anche il DAX vedete i volumi che rimangono sotto la media, non vi è stata una coralità di investitori, però ripetiamo, siamo in estate, ormai siamo nella fase in cui molti investitori, soprattutto i piccoli retail escono di scena e a questo punto le mani forti hanno facilità a muovere il mercato, è probabile che avremo anche un po' di volatilità, in ogni caso DAX rimane ben impostato, se i 15,700 terranno è ovvio che ci sia ompia possibilità per rivedere anche qui un nuovo massimo storico. Wall Street chiude il primo semestre con il record del Nasdaq 100, come abbiamo detto, Apple col suo nuovo massimo storico registrato nella suda di venerdì supera i 3 mila miliardi di capitalizzazione. A proposito di Apple, dopo le prime reazioni contrastate che ci sono state alla presentazione del suo nuovo visore, le problematiche sono state soprattutto per via dei prezzi che sono stati ampiamente al di sopra di quelli della sua concorrenza, ma è anche vero che in realtà il visore di Apple è molto più di quello presentato da metà. Quindi vi sono degli analisti che si sono spinti a dire che entro un paio d'anni Apple potrebbe addirittura arrivare a capitalizzare oltre i 4 mila miliardi, quindi aggiungere un ulteriore 33% dai livelli attuali. Pare molto probabile che l'Apple Car sia una realtà prossima, futura, probabilmente non è lontano il momento in cui da Cupertino faranno un tale annuncio per magari comunque una commercializzazione non prima del 2026, ma sappiamo bene che quando Apple fa un annuncio, poi dopo il risultato del prodotto è quasi e quasi certo. Così come siamo certi che il nuovo visore presentato probabilmente sarà un nuovo device che cambierà la vita di tutti noi, magari non nei prossimi 5 anni, ma probabilmente tra 20 anni forse avremo tutti un visore, se non di Apple, ma comunque avremo un visore. Andiamo a vedere quanto è accaduto sui grafici di Wall Street, eccoci col Dow Jones, il Dow Jones che recupera immediatamente i 34 mila che aveva perso nella scorsa ottava, ha chiuso a 34 mila e 407 punti, si sta portando come vedete sul bordo superiore di questa fase di concessione che dura ormai da tanto tempo, si sta portando quindi su questo bordo superiore, è ovvio che se riuscisse a infrangere i 34 mila e 700 punti circa di quel massimo lì, poi arrivare a 35 mila dovrebbe essere relativamente facile. Vedete i volumi in aumento sul Dow Jones rispetto alla scorsa ottava, ma ricordiamo che la scorsa ottava vi era una festività e pertanto chiaramente i volumi questa settimana sono stati in aumento proprio perché vi è stata una seduta in più. Ricordiamo peraltro che settimana luglio, festa dell'Independence Day, i mercati di Wall Street chiusi, probabilmente ci sarà poco movimento anche nella seduta di lunedì, chissà che gli americani facciano ponte anche loro e con questo probabilmente nelle sedute di lunedì e martedì sarà buio anche per tutti gli altri listini mondiali. Andiamo a vedere quello che è accaduto sul Nasdaq, abbiamo detto essere stato il peggior listino di settimana anche se è stato ampiamente il miglior listino di semestre, anche qui Nasdaq ha recuperato immediatamente la candela rossa della scorsa ottava, ha testato con successo il supporto dei 14,770, ha testato con successo la resistenza dei 15,157 ed è andata a chiudere a 15,179 quindi leggermente sopra, sarà importante anche qui vedere se terrà questo livello nella prossima settimana per poi andare a puntare alla resistenza dei 15.700 punti e poi all'area psicologica tonda dei 16.000 punti prima di poter tornare a guardare i massimi storici. Anche qui come vedete i volumi in leggero aumento ma rimangono comunque all'interno della media. Chiudiamo infine con SP500 che di tutti i listini americani è quello che ci è piaciuto di più, ha reagito bene, era finito la scorsa settimana ricordata, abbiamo detto che aveva chiuso sotto il supporto dei 4.368 l'ha immediatamente recuperato, si è portato sopra i 4.450 e pertanto si sta avvicinando a quei 4.546 che potrebbero indicare veramente una svolta. Guardiamo che già in precedenza a marzo dello scorso anno il livello era stato raggiunto ma era stato poi ributtato indietro, dovesse riuscire ad arrivarci e ad allungare sicuramente per SP500 poi sarebbe quasi una volata andare a ritoccare i massimi storici in area 4.778 punti. Vedremo quindi quello che succederà nella prossima settimana, ricordiamo festa dell'Independence Day martedì 4 luglio Wall Street chiusa, probabilmente anche lunedì non ci saranno grandi volumi a Wall Street e quindi vedremo con questa settimana corta cosa succederà. Con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, vi ringraziamo per il like che ci vorrete dare e chiaramente per qualsiasi informazione sui nostri servizi trovate il link in descrizione.